salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per farvi un regalo anzi cinque regali sì perché sono qui per regalarvi cinque codici sconto per acquistare lui hotel evo nano plus ho stressato talmente tanto giuseppe fornaroli di beats model sito che ho già portato qua sul canale perché è sicuramente uno dei siti più sicuri più affidabili che ci dà tanta assistenza anche in poste vendita per il mondo autele e per il mondo dj l'ho stressato talmente tanto che alla fine sono riuscito a farmi rilasciare cinque codici sconto da distribuire a chi vuole acquistare un hotel evo nano plus versione combo sì perché questi codici sconto che ci danno la possibilità di avere uno sconto del 3 per cento sull'acquisto e spedizione gratuita sono validi per evo nano plus versione combo colore arancione i cinque codici sconto li troverete qua sotto in descrizione saranno cinque codici con una numerazione diversa anche se lo sconto è uguale identico per tutti e cinque i codici quindi avremo il primo codice nerd 1 poi il secondo codice nerd 2 terzo codice nerd 3 e così via fino arrivare a 5 ovviamente quando li andrete ad utilizzare il primo codice che potrebbe essere nerd 1 magari è già stato utilizzato quindi provate a utilizzare il secondo se anche il secondo è già stato utilizzato provate ad utilizzare il terzo mettendo nerd 3 fino a arrivare a 5 perché magari il primo è già stato utilizzato da un altro acquirente ma ci sono liberi gli altri codici quindi se il primo che inserite non è disponibile provate il secondo e così via finché magari ne trovate ancora uno disponibile almeno che siate arrivate tardi e nessuno dei cinque codici è disponibile quindi ragazzi spero di aver fatto cosa gradita avervi portato questi codici sconto qui sul canale vi ripeto il codice sconto è valido solo per la versione nano plus combo colore arancione e quindi ragazzi se questo mio video vi è stato utile vi è piaciuto e avere questi codici regali l'avete trovato interessante per questo piccolo drone di casa autel e lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tanti coupon sconto dove probabilmente anche i codici sconto di lui finiranno lì sul canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un testo un torre delle novità ciao e al prossimo video